Ciao lettori di Ginger, sono Matteo Andreini e volevo dirvi queste tre curiosità su di me. La prima è che ho un fratello più grande, si chiama Luca e ha 19 anni. La seconda è che come animale domestico mi piacerebbe tantissimo, ma tantissimo avere una scimmia. E la terza è che quando ero più piccolo andavo sempre a pesca al lago e mi piaceva tantissimo.